La crisi La crisi La crisi La crisi La crisi La crisi Una crisi La crisi La crisi La crisi La moneta dell'Europa, l'Euro, non ha niente a che fare con l'Unione Europea È solo un caso di suicidio globale, un suicidio economico Dimostrano che è effettivamente possibile avere un sistema monetario che produce pieno impiego e nessuna inflazione Serve un programma per cui lo Stato sia il datore di lavoro di ultima istanza E il palco ha confermato la sua natura Tutto il surplus economico di interi paesi viene incamerato dalle banche E non rimane niente per la ricerca né per lo sviluppo La mia paura è che si arriva rivolte e represse nel sangue La mia paura è che si arriva rivolte e represse nel sangue E vi piace circondarvi di gente che vi dà ragione Grazie 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 Grazie